Nuovo appuntamento con indovina chi viene a cena nella splendida cornice del complesso turistico Averno I Damiani, venerdì 17 giugno, cena spettacolo con un artista catene PIS, misura e qualità, Massimo Masiello. Grazie donna Teresa, lei è troppo buona, allora vi aspettiamo al complesso di Averno il giorno 17 giugno, sfatiamo questa cosa che noi napoletani, a noi napoletani il 17 porta male, perché il 17 ci porta benissimo, il periodo il 17 è il giorno in cui Napoli ha vinto lo scudetto, non mancate una serata all'insegna della musica, del divertimento, della poesia, tutto all'insegna della tradizione napoletana. E allora, Giovanim? Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 081 195 77 330, ripeto 081 195 77 330 oppure 333 425 6610, ripeto La serata è offerta da Hotel Salus, albergo per anziani, via soffritto ai Camaldoli, Napoli, telefono 081 587 5041, hotelsalus.net